Il dottor Marco Zannini lascia il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Piacenza, diretto a partire da dicembre 2013. Il primario ha annunciato la decisione di anticipare il suo pensionamento ai microfoni di telelibertà. Il suo contratto in realtà scadrebbe alla fine del prossimo anno, ma Zannini ha già presentato il preavviso delle dimissioni che si concretizzeranno nei prossimi mesi. Per tanti motivi ho deciso di anticipare, ma uno di questi è che ho portato a termine il mandato professionale che mi era stato dato nel momento in cui ho lasciato Fiorenzuola e sono venuto a dirigere le due unità operative qua a Piacenza. La scommessa è stata una scommessa dura, che aveva dei margini di imponderabilità, ma possiamo dire che è una scommessa che è stata vinta. Il bilancio in termini di numeri è effettivamente molto positivo. Sono 1920 parti avvenuti nel 2014, 29.000 le prestazioni, 4.750 i ricoveri e si registra un ulteriore aumento delle nascite di circa il 3% nei primi tre mesi del 2015. Riuscire a non perdere gli utenti della Valdarda è la scommessa vinta. Un'unica unità operativa, un unico punto nascita, ha potuto offrire il servizio alla stragrande maggioranza delle donne che prima si rivolgevano a Fiorenzuola. Zannini ha rivelato anche di avere un sogno nel cassetto. Negli ultimi anni ha affermato la professione è stata molto condizionata dalla medicina difensiva, o se preferisce, dalla conflittualità tra medico e paziente. Io sogno di continuare a fare il medico in una realtà più dura, ma allo stesso tempo più semplice e meno burocratizzata, anche se per tante ragioni probabilmente sarà difficile realizzare questo sogno. Sicuramente, a concluso, continuerò a collaborare nell'ambito della medicina legale.